Favore in chiusura per Neunhoff 2.46, comunque più o meno tutti in lizza, rinuncia allo stacco Musica dei sogni, veloci Neunhoff e Maestro, si accende subito la lotta fra i due, cerca Luca Farolfi di scavalcare l'avversario e così è Maestro quindi al comando davanti a Neunhoff, poi partita bene anche Musica dei sogni in terza posizione alla corda, c'è però subito Neunhoff che va a chiedere strada dopo i primi 200 metri in 14.8 e la ottiene quindi Neunhoff in vantaggio con Roberto Vecchione davanti a Maestro Luca Farolfi, segue poi Musica dei sogni tutti in fila indiana, poi Navaya de Gloria in quarta posizione, 16.2, tira il in barca Roberto Vecchione con Neunhoff e prosegue in vantaggio, 6 cavalli tutti in fila indiana a 300 metri, ormai ai 600, Neunhoff li percorre in 47, ora sempre tutti in fila indiana al passaggio davanti alle tribune, seconda posizione sempre per Maestro davanti a Musica dei sogni in Navaya de Gloria, Isidoro del Rio e in coda Gadoni. Frazione davanti alle tribune sempre in controllo, 15.3 ha leggermente accelerato, ora Neunhoff 1.2.3 il giro, ori cavalli sono sulla penultima curva con Neunhoff che conduce davanti a Maestro Piccole Scaramucce, poi 15.8 la frazione il chilometro 1.18.1, ora è Gadoni che viene decisamente a largo ma è ancora molto indietro, accenna a spostare dalla terza posizione anche Musica dei sogni, rimane lì Maestro, 15 secco il parziale delle scuderie con Neunhoff in vantaggio, Maestro in seconda posizione alla corda, allargo Musica dei sogni, allargo anche Navaya de Gloria in anticipo su Gadoni, ora Musica dei sogni sembra sul punto di prevalere su Neunhoff, è rimasto chiuso Maestro, poi avanza anche Navaya de Gloria, curva in 15.7, retta d'arrivo con Musica dei sogni in vantaggio, di dentro si butta Maestro, allargo Navaya de Gloria, ultimi metri, Navaya de Gloria sembra sul punto di poter prevalere ma si difende Musica dei sogni ed è Musica dei sogni che viene a vincere su Navaya de Gloria e Maestro, quindi bella vittoria per la figlia di Ambrogol che viene a vincere con Francesco Virzia alla quota di 5.99, è riuscita a debellare il leader Neunhoff e poi a rispingere l'attacco di Navaya de Gloria, buona seconda, terzo posto per Maestro su Isidoro del Rio